L'organizzazione dei nostri lavori sarà quella consueta. Lo dico agli amici estigiani, il dottor Englaro introdurrà i suoi temi, poi ci saranno i nostri allievi, avranno l'opportunità di muovere critiche, chiedere chiarimenti e poi avremo un dibattito per tutti quelli che vorranno partecipare. Del dottor Beppino Englaro cito soltanto il titolo dei suoi libri che immagino voi conosciate. Eluana, la libertà e la vita, Rizzoli 2008. Poi nel 2009 un altro libro, la vita senza limite, la morte di Eluana in uno stato di diritto, Rizzoli 2009. Ora, se temi come la libertà, la vita e il diritto non sono al centro della riflessione di un master in educazione civica, non so proprio quali altri ci debbano stare. Caro Beppino, benvenuto e grazie e accettate il nostro invito. Hai tutto il tempo che desideri. Innanzitutto, buonasera a tutti voi. Perché è nata questa vicenda? Guardate, la sorte è stata un po' particolarmente beffarda con l'Eluana. L'Eluana, sono già passati più di vent'anni, adesso il 18 gennaio del 1992, ha avuto un incidente stradale gravissimo. È entrata in testa a coda su una strada ghiacciata, però era seguita da un amico, quindi è stata prontamente soccorsa e non era distante dall'ospedale ed è capitata in una struttura perfettamente adeguata a trattare un caso così grave. Ma esattamente un anno prima, proprio un anno prima, il 17 gennaio del 1991, l'Eluana, nella stessa rianimazione che è capitata a lei il 18 gennaio del 1992, era andata a trovare un suo amico, più o meno nelle stesse condizioni nelle quali si è venuta a trovare lei dopo l'incidente. e in questa situazione aveva avuto modo di percepire i pericoli della cresciuta potenza della scienza medica, vale a dire della rianimazione ad oltranza, perché aveva visto lo sbocco del suo amico Alessandro dopo questa rianimazione ad oltranza e quindi aveva affrontato il problema a casa. Ma guardate, lei aveva da poco compiuto 21 anni allora, già prima, già 17-18 anni, parecchi suoi amici avevano avuto degli incidenti e lei si era sempre espressa sugli esiti di queste situazioni. E quindi il tema praticamente, essendo una ragazza molto forte, molto determinata, particolarmente straordinaria, ma non per i genitori, per le altre persone che l'hanno conosciuto e tutti si chiedevano, ma lo sa l'Eluana di essere così, questo ce lo sottolineavano tutti. Quindi il tema vita, morte, dignità e libertà, in seguito a tutti questi incidenti e specialmente per l'ultimo, è stato inevitabile l'approfondimento in famiglia e poi avevamo anche una posizione univoca, univoca. Quindi, ma quello che era emerso, cioè, chi non ha conosciuto questa ragazza e questo suo desiderio di libertà e quello che lei avvertiva come violenza, forse riesce un po' difficile capire il perché poi è nata questa vicenda. Ma lei era così, noi l'avevamo percepita così, l'avevamo rispettata così ed avevamo per scontato, misurandoci sul nostro metro, che anche gli altri capissero una cosa per noi così lineare. E la sorte ha voluto anche, ma questo noi l'abbiamo trovato molti, ma molti anni dopo, che lei nel gennaio del 91, cioè, scusate, nel dicembre, nel Natale del 91, quindi neanche un mese prima del suo incidente, scrivesse una lettera ai suoi genitori, perché lei scriveva queste cose anche alla sua insegnante di lettere, a tanti altri, però non lo spediva. E noi per caso, molti anni dopo, l'abbiamo trovata in un suo libro. E la frase più significativa di questa lettera è questa. Noi tre, lei era figlia unica, formiamo un nucleo molto forte, basato sul rispetto e l'aiuto reciproco. Quindi era chiaro per noi, una volta che lei si è venuta a trovare in una situazione come quella che si è trovata non più capace di intendere e di volere, che noi le dessimo voce, e questa voce venisse ascoltata anche. Ma cosa succede? Partendo da questa situazione così grave, loro ci hanno detto, le prime 48 ore saranno determinanti per la vita e per la morte. Quindi noi, lei era precipitata, in quale condizione clinica si dice? Coma profondo, vale a dire, ecco, gli occhi chiusi, è come un sonno. E da questa situazione, se non si muore, prima o poi se ne esce, se non si muore. Ma bisogna vedere come se ne esce, e lei l'aveva visto, questo nel suo amico Alessandro. Quindi le prime 48 ore, ci hanno detto, saranno determinanti. Poi ci hanno chiesto successive 48 ore. e dopo c'è stato il primo colloquio. Perché queste prime 48 ore e le successive 48 ore, noi abbiamo preso solo atto di questa gravità, perché lei aveva avuto un danno celebrale diffusissimo alla corteccia, e soprattutto aveva anche la seconda vertebra, quella che se ne usciva, avrebbe stato come confoga, aveva potuto forse muovere solo la testa. Noi non eravamo, il tutto è venuto all'ecco, noi non eravamo all'ecco, quando è successo l'incidente, eravamo fuori, siamo rientrati dopo una decina d'ore, perché eravamo andati via per una settimana bianca, lei era rimasta, che aveva la mia macchina, per parentesi, che è in testa a coda. Però c'era una sua amica, che ha fatto i 5 anni del liceo linguistico con lei, che è stata la prima a parlare con i medici del pronto soccorso, che noi, in quel momento, non avevamo neanche l'idea, che fosse avvenuto questo incidente. Questo chiaro ce l'ha riferito dopo questa sua amica Francesca. Quando lei ha sentito il danno grave celebrale, il danno spinale di Eluana, la prima cosa che si è chiesta, è cosa avrebbe voluto l'Eluana in questa situazione. Dal momento che l'Eluana non aveva parlato solo in famiglia di queste situazioni, ma aveva parlato anche con le sue amiche, questa ragazza lei era particolarmente affiatata proprio nella scuola, era quella in perfetta sintonia con lei, partendo da due caratteri completamente diversi, la prima cosa che si è chiesta, questo, e lei ha detto, per l'Eluana una situazione del genere, avrebbe semplicemente desiderato di essere lasciata morire. non c'era vero. Quindi pensate voi, immaginatevi noi genitori che avevamo discusso queste cose, se non ci fossimo posto il problema anche in questi termini. Ma quando c'è stato il colloquio col medico, il medico cosa ci ha detto dopo le 48 ore e le successive? Guardi, noi domani procediamo con la tracheotomia, per il respiratore automatico, perché l'avvento della rianimazione ad oltranza è stato dopo la scoperta di questo respiratore automatico che è nella seconda metà degli anni 50 questo, in Danimarca è stato scoperto questo, e poi col proseguo anche dell'alimentazione e dell'idratazione forzata. Allora lui ci informa, dice domani noi procediamo con questo, si ricordi che non abbiamo bisogno di nessun consenso, la informiamo perché riteniamo giusto informarla di una situazione del genere. Scusate. Quindi lui ci informa, ci dice non abbiamo bisogno di nessun consenso, è chiaro, questo era il segnale che la rianimazione procedeva ad oltranza. Per noi è stato automatico dirgli, guardi professore, la ragazza conosce questa situazione, si era espressa, e quindi noi siccome ogni caso è fine a se stesso, gli abbiamo chiesto lo stato dell'arte e della medicina nello specifico della vicenda eluana. E lui ci disse subito in una maniera semplice e chiara è di poco superiore allo zero. Quindi come sbocco, lei si attende a delle incognite a 360 gradi. Quindi lui ha percepito questo fatto che noi volessimo dialogare, dare voce, ma lui ci ha detto, guardi che qui non c'è niente a dialogare, io non posso in una situazione del genere non mettere al servizio dell'eluana tutto quello che la scienza medica, la tecnologia conosce al momento. Quindi non vedo di che cosa dobbiamo dialogare, di queste cose. Però ha capito che noi eravamo in grado in qualsiasi momento di assumerci le nostre responsabilità dando voce, perché per noi, ecco, se l'eluana se non veniva trattata da persona libera e responsabile non c'era verso, ma poi quello che era emerso negli approfondimenti, noi non ci saremmo mai sognati che qualcuno avesse i poteri e i doveri di disporre della salute e di conseguenza della vita altrui così, come ci è stato segnalato in questo, che non ci fosse nessuna possibilità di dialogo, perché nel dialogo noi volevamo sapere fino a che punto si può spingere la medicina e quando può interrompere questo, perché l'abbiamo visto che nel caso di Alessandro loro avevano creato una situazione che a detta dell'eluana, visto che avevamo la posizione univea, era di gran lunga peggiore della morte, quindi una condizione estranea al modo di concepire l'esistenza nostro e questo era creato all'amico Alessandro e quello che lei percepiva di una violenza inaudita, perché il soprannome di questo ragazzo era Furia, immaginatevi voi, bloccato in questa situazione, allora non ci hanno dato alternative, è chiaro, nei successivi colloqui noi ci siamo chiesti, perché alla base, tutto questo era chiaro già nel 92, alla base del rapporto medico-paziente c'è il consenso o il dissenso informato. Sappiamo tutti che è capace di intendere e di volere, il medico dialoga con noi e noi dalla cosa più banale alla cosa salvavita possiamo dire un semplice sì o un semplice no. Quindi per noi era automatico, se uno non è più capace di intendere, di volere, i suoi convincimenti erano quelli che L'Eluan aveva evocato, che non perdesse questi diritti e queste libertà fondamentali, perché è chiaro, è insito nella nostra Costituzione che la nostra condizione non è discriminatoria quando rivendichiamo questo, perché siamo sempre la stessa persona, solo che improvvisamente non siamo più in questo. E poi quello che era emerso anche il fatto di dire ma la benicina, sempre nel seguito dei colloqui, è al servizio della non morte o al servizio della persona nella sua complessità e interezza? Ma qui c'è stato veramente dell'incredulità e sono emerse queste posizioni diametralmente contrapposte perché lui ha evocato anche, ma scusi, lui mi diceva, no? Ma lei non conosce la cultura della vita, l'istinto che in queste situazioni va verso la vita. Nessuno si sognerebbe di voler parlare perché cosa aveva percepito? Che noi eravamo in qualsiasi momento in grado di dire un semplice no, grazie a questa offerta terapeutica, se non avevamo diciamo determinate certezze che in un certo momento loro smettevano in questa situazione. E cioè, in queste situazioni viene interrotto il processo del morire, ma poi, come avevamo visto, non viene poi ripreso. Non viene poi ripreso. Ma non c'è stato verso, ma quello che ci ha sorpreso che questa posizione, che nessuno, allora, l'avvento del respiratore automatico è dalla seconda metà degli anni 50. L'incidente è avvenuto nel 92 che nessuno avesse sollevato in questi termini molto chiari di, perché noi ritenevamo una violenza inaudita non poter dire no a questa offerta terapeutica ed essere lasciati morire. Questo, non avendo il tabù della morte, perché, ecco, per noi, era evidente, ma sembra quasi di dire una cosa banale, la morte fa parte della vita, ma quello che non fa parte della vita è che la medicina, alla medicina o ai medici abbiano questo potere di creare queste situazioni. Infatti, avevo intuito molto bene questo, quindi, non c'è stato dato scampo, è chiaro che io la prima cosa che gli ho detto, bene, se avete questi poteri e questi doveri e non date scampo, risponderete poi fino in fondo, eh, di quello che hai fatto. Quindi, cosa è stato, perché è stata tanto beffarda? Perché lei ha avuto dal primo momento le migliori cure che uno si può augurare di avere e non le avrebbe volute. E poi ha avuto il peggior sbocco, perché non è detto che si abbia questo sbocco, perché se le incognite sono 360 gradi gli poteva andare anche bene e non come è andata. Ma ho sentito un momento fa dal professore che ci si può anche preparare al peggio del peggio, no? E questo era forse dell'istinto nostro in una situazione del genere, non escludere, non escludere questo, quindi essere pronti in qualsiasi momento a dire lasciate morire e riprendete il processo del morire che voi avete interrotto con queste metodiche. Perché se è moralmente lecito il fatto che ci siano queste metodiche è se uno deve per forza subirle. E questa era la domanda di fondo. Quindi lei ha avuto il peggior esito che non era da escludere, anche se ha avuto le migliori cure. Qual è il peggior esito? Allora, come vi ho già detto, dal coma se non si muore si aprono gli occhi però bisogna vedere come se ne esce e quando se ne esce che si aprono gli occhi e le funzioni vegetative, circolazione del sangue, termoregolazione, funzioni arenate e tutto questo, quello che presiede una parte del cervello che si chiama tronco, quelle continuano. Gli occhi sono aperti e è un sonno veglia però senza la ben che minima percezione del mondo che ci circonda e nessuno si può essere in contatto con lei. Quindi io credo che a pochi è dato di sapere di questi sbocchi perché questi sbocchi riconosce chi ci cade dentro o chi li crea, questo è evidente, o noi che avevamo percepito solo questi pericoli in base a questa vicenda. Quindi pensate voi di fronte a questo esito ma la sorpresa è stata che non trovavamo interlocutori perché veramente per noi cioè queste libertà fondamentali e questi diritti e di sentirsi dire cioè quando ero veramente seccato mi sembra di essere ritornato all'asilo perché gli ho detto in fondo in fondo all'asilo si dice è così perché è così tu non lo sai che è così e che l'unico diritto che hai tu in questa situazione è di non avere nessun diritto dal momento che come vi ho già detto alla base c'è questo consenso o dissenso informato nel rapporto medico-paziente e non lo perdessero sapevamo tutti che per rivendicare il più banale dei diritti Nelson Mandela è stato in galera a 28 anni e io non volevo che Eluana diventasse una vittima sacrificale di poteri di doveri dei medici che mai mi sarei insegnato che esistessero e che non trovassi interlocutori perché io ho cercato dappertutto nel mondo chiaro la prima cosa sono andato al procuratore della Repubblica di Lecco di dirgli questo ma anche questo è caduto dalle nuvole ma come si fa a rivendicare una cosa del genere non esiste e quindi non ne parliamo poi anche nel mondo del diritto e di tutte queste cose non ho trovato interlocutori però davo per scontato che almeno una volta che si arrivava alla diagnosi prognosi definitiva nel caso di Eluana loro hanno sempre raddoppiato normalmente in queste situazioni sono i sei mesi poi si accenda un anno nel caso di Eluana hanno raddoppiato due anni e ha avuto l'esito più in falso ma non è mai stato messo in discussione l'esito e le cure che lei ha avuto mai e poi mai perché questo era molto chiaro ci aveva detto che la struttura era perfettamente adeguata l'avevamo constatato e tutto ma però una volta che si creava questa situazione ho detto io poi almeno di fronte alla diagnosi prognosi definitiva di una situazione del genere che noi avevamo già fatto presente sin dall'inizio che mai e poi mai Eluana avrebbe preso in considerazione si riprendesse il processo del modello che fossero i medici i primi a chiedersi e a porsi questo problema con quale diritto io gli ho detto chi con quale diritto allora evocava vi ho già detto la cultura della libertà loro hanno scienza coscienza hanno un codice dontologico hanno un giuramento di ipocrate e io cosa c'ho gli ho detto di fronte a queste situazioni ecco dove veramente erano queste posizioni inconciliate quindi non ci sono risposte e non ci sono soluzioni quindi io ho trovato un clima culturale questo da deserto è chiaro che ero incontenibile in questa situazione perché come vi ho già detto un momento fa mi sembrava di venire infantilizzato di essere protetto da me stesso che non mi rendessi conto che non era una richiesta da fare una cosa del genere quindi anche dopo la diagnosi non ci sono risposte non ci sono soluzioni e siamo arrivati al gennaio del 94 però è chiaro che mi ero informato su tutto queste tematiche nei paesi anglosassoni ad esempio negli stati editi d'america col caso Quinlan già nel 1976 si sono posti questo problema e hanno dato risposte a queste problematiche quindi già dal 1976 poi c'era stato anche precedentemente a questa vicenda nell'83 c'era il caso del stato di Nancy Cruzan mi riferisco sempre agli Stati Uniti d'America dove lei in seguito un incidente anche lei e qui la rivendicazione è sempre quella della libertà di cura di terapia in questa condizione come lo è quando sei capace di intendere di volere cioè in qualsiasi momento avere la possibilità di dire un semplice no grazie basta lasciatemi morire e se volete mi accompagnate anche nel morire ma non hanno l'obbligo di essere accompagnati nel morire quindi pensate voi allora questo era stato affrontato con Nancy Cruzan nell'83 aveva avuto un incidente poi la soluzione è avvenuta nel 90 cioè è stata la ripresa del processo di morire perché in queste condizioni le uniche terapie come nel caso di Luana che può succedere è l'alimentazione e l'idratazione forzata che cos'è questa alimentazione quando sono in questa condizione loro non possono deglutire quindi un composto chimico farmaceutico viene portato direttamente nello stomaco attraverso un sodino che va verso il naso o direttamente nello stomaco e questo fa quindi l'unica supporto è questo e poi ci sono anche altri supporti ma per evitare i disagi di queste persone ma il supporto vero è proprio questo è questo e loro sentite evocare spesso di morire di fame e di sete dovete sapere che queste persone in queste condizioni non hanno la minima percezione della fame e della sete quindi evocare la fame e la sete in queste condizioni quando non si ha nessuna percezione è veramente fuori dalla realtà di questo fatto quindi il caso Nenzi Krusen ha trovato la sua soluzione negli Stati Uniti nel 90 quindi erano già due anni prima e nel frattempo che io mi occupavo di queste cose c'era stato anche un caso inglese che era stato risolto nel 93 quindi nei paesi anglosassi negli Stati Uniti erano dati queste risposte però io non trovavo nessun interlocutore cioè per poter affrontare il problema il caso ha voluto che io sentissi una trasmissione una volta dove parlava il presidente del comitato nazionale per la bioetica che cos'è il comitato nazionale per le bioetiche è chiaro queste problematiche bioetiche che superfluo dirlo voi sono pluridisciplinari tutti nei paesi voluti avevano questo comitato di saggi appunto in queste diverse cose che davano erano la consulenza della presidenza del consiglio del governo di questo in Italia noi l'abbiamo istituito nel 90 con l'allora presidente Andreotti allora parlava questo presidente che era cioè è un insegnante il professor Francesco D'Agostino che insegna filosofia del biritto che è stato due volte vedo un sorriso ho già capito tutto allora questo Francesco D'Agostino parlava con un neurologo e questo neurologo ha evocato queste situazioni per la miseria dico io mi sembrava di sognare che fosse una persona che evocasse queste situazioni che crea la medicina che non erano mai state io non l'avevo mai conosciuto questo neurologo la prima cosa che ho fatto ho cercato un contatto con questo neurologo e cosa scopro? prima di tutto non era distante da me che era a Bergamo io vivevo a Lecco però sono di Udine i miei radici sono Udine e sono cresciuto a Udine ma però per ragioni di lavoro ho optato per Lecco è nata mia figlia e è cresciuta mia figlia allora questo contatto questo neurologo che riceveva a Bergamo e scopro che questo neurologo che si chiama il professor Carlo Alberto De Fanti che ha pubblicato diverse cose anche e lui era presidente della consulta di bioetica di Milano allora una cosa è il Comitato Nazionale per la Bioetica e una cosa è la consulta di bioetica di Milano e questa è un'associazione era ed è tuttora un'associazione culturale a politica e a confessionale che si occupava delle stesse tematiche del Comitato Nazionale per la Bioetica in questo consulta ci sono magistrati giuristi avvocati medici allora lui mi dice guarda forse se vieni un giorno ne parliamo dentro la consulta di bioetica e vediamo come si può affrontare o come si potrebbe affrontare questa vicenda in Italia ha capito benissimo tutto mi ha evocato tutto quello com'era ma lo sapevo che mi era informato quindi per la prima volta io ho trovato un interlocutore e come avrete ben capito da quanto vi ho detto prima l'Eluana al momento dell'incidente aveva 21 anni quindi noi i genitori non avevano nessuna voce di capitolo non erano interlocutori né dei medici perché non hanno voluto né dal punto di vista giuridico allora in questa consulta di bioetica abbiamo visto come si poteva affrontare questa situazione allora la prima cosa che abbiamo pensato di nominare un tutore il tutore deve aver cura di chi tutela in tutti i sensi quindi diventa automaticamente a 360 gradi interlocutore di tutti e quindi diventa anche interlocutore dei medici e gli può dire signori miei a questo punto voi la dovete smettere e dovete semplicemente interrompere le vostre cure le vostre terapie e permettere di riprendere il processo di morire e di lasciarla morire quindi di lasciarla morire perché come per rivendicare questa libertà e questo diritto fondamentale questo è stato fatto ma questo è durato quattro anni per arrivare alla prima sentenza perché è chiaro come tutore il mio capo prima devo rivolgere i miei medici i medici mi dicono no se vado dal giudice a tutelare lui mi dice di no anche devo andare dal tribunale di Lecco se mi dice di no il tribunale di Lecco devo arrivare alla corte d'appello di Milano e questo è stato fatto ma nel frattempo siamo arrivati a dicembre del 1999 sette anni o quasi otto dopo è chiaro che questa sentenza ha capito dove noi andavamo a parare e la nostra rivendicazione la nostra rivendicazione però cosa succede nel lontano dicembre del 1999 questi signori non ci hanno i magistrati non ci hanno potuto autorizzare a sospendere questo perché hanno evocato questo guardi mi riferisco al dicembre del 1999 per noi non è chiaro tanto nel contesto medico italiano e nel contesto giuridico giurisdizionale se questa alimentazione e idratazione forzata che voi rivendicate di sospendere come era venuto a Nancy Krusan e era venuto anche a Tony Blende in Inghilterra sia una terapia o un mezzo di sostentamento sempre dovuto ma quello che viene evocato anche adesso ma allora e allora noi come consulta di bioetica a questo punto dal momento che anche come consulta attenzione interlocutori o che i media ne parlassero di queste problematiche no nessuno perché non ne vanno a parlare perché erano temi molto forti che spaccavano le coscienze di conseguenza loro perdevano lettori ospettatori di questa cosa questo è chiaro però noi allora cosa abbiamo fatto è chiaro che la consulta no è chiaro la consulta ha una rivista che si chiama bioetica è pluridisciplinare ve l'ho già detto allora nel 2000 il primo numero è uscito con tutto quello che noi avevamo messo a punto dal 1996 al 2000 praticamente quindi tutto quello che era stato messo a punto e abbiamo organizzato un incontro all'università statale di Milano per informare abbiamo detto assieme alla facoltà di filosofia del diritto vogliamo vedere se diciamo in un contesto accademico non si può sollevare questo problema e questo è stato fatto abbiamo organizzato questo incontro all'università per la prima volta un grande giornale a tiratura nazionale come Repubblica ha dedicato una pagina a questo argomento a questo incontro perché Giovanni Maria Pace che non c'è più si occupava di cose scientifiche e cliniche aveva parlato con l'avvocato che aveva firmato tutti gli atti del litter giuridico e il cronista Piero Colaprico aveva parlato con me per gli aspetti umani di questo quindi il giorno dell'incontro all'università statale c'era una pagina intera di questo e qui per la prima volta si sono scatenati i tre giornali della RAI e di Mediaset e quindi l'opinione pubblica se voleva sapeva che esisteva questo problema attraverso questa pagina di Repubblica e i sei telegiornali che tutti ne hanno parlato di questo perché era una richiesta a dir poco fortissima a questo punto però quel giorno stesso è partito un appello istituzionale partendo dal Presidente della Repubblica all'ultimo cittadino passando per tutti tutte le corti le camere tutti i deputati e tutti cosa diceva questo appello signori miei ci sono qualche migliaio di persone anche allora erano tre quattro cinquemila persone in queste condizioni e come vi ho già detto questa condizione non esiste in natura è uno sbocco non voluto e non prevedibile di una rianimazione non andata a buon fine quindi automaticamente queste persone per me sono vittime sacrificali chi non le voleva questo chi aveva le idee molto chiare perché il medico lo sa che io non mi sarei mai sognato di dire mi raccomando curi la ragazza no noi volevamo sapere il momento noi vogliamo dialogare come fossimo capaci di intendere e di volere dando voce allora questo appello dice questo signori questo problema va affrontato anche se riguarda qualche migliaio di persone perché la civiltà di un paese la si misura anche quando si danno risposte a queste il caso voluto è allora in positivo che fosse ministro della salute Umberto Veronesi allora la prima cosa che ha fatto Umberto Veronesi ha nominato una commissione un gruppo di studio per dare il suo parere ai magistrati che si erano espressi in questa maniera e questo questo è stato fatto siamo arrivati al giugno del 2001 che è l'ultimo atto dell'allora ministro della salute perché scadeva il suo mandato del 2001 nel frattempo c'era stata una convenzione europea la convenzione di Oviedo dei diritti riguardo la biomedicina quello che crea si chiama la convenzione di Oviedo che attraverso una legge nel marzo del 2001 il Parlamento ratificava questa convenzione in questa convenzione la cosa principale è questa da dire che qualsiasi intervento io dico sempre quello che era nello specifico della vicenda qualsiasi intervento una persona maggiorenne non più capace di intendere di volere c'è bisogno di un consenso non c'è ma qualsiasi intervento in questo uno non può quello che allora è stato evocato dal medico io non posso non curare no un momento cioè cosa vuol dire con questo deve venire restabilito il dialogo medico-paziente allora noi alla luce di questo della legge che ratificava la convenzione di Oviedo della risposta del gruppo di studio dentro la commissione veronesi siamo tornati alla carica e abbiamo detto bene adesso però bisogna rifare la terfila questa volta non ci possono dire di no però purtroppo ce l'ho detto ancora di no erano perplessi di fronte a questa richiesta allora siamo arrivati nel 2003 allora nel 2004 per noi c'è stata nello specifico allora prima l'appello era rivolto a tutti allora abbiamo fatto una lettera aperta che era a modi appello dicendo nello specifico della vicenda chiarito al presidente della repubblica presidente del consiglio 2004 marzo allora era anche Berlusconi presidente del consiglio Carlo D'Azzeglio Ciampi era presidente Casini della camera del senato era adesso mi sfugge il nome fa niente vera sì e quindi abbiamo nello specifico il presidente dei medici e il presidente è il ministro della salute dicendo guardate dateci una risposta in questo nello specifico perché ci hanno detto di nuovo o no e nel frattempo noi abbiamo anche pensato di come negli altri paesi anglosassoni e il regno unito finché queste tematiche estreme non arrivano alla sede estrema non si ha la risposta definitiva allora abbiamo alzato il tiro anche noi bene adesso basta con la corte d'appello dobbiamo arrivare alla corte suprema di Cassazione e questo è stato fatto ma non sono stati dei tecnicismi e delle cose che non sono rispettate abbastanza ci hanno detto di no in una prima risposta della corte suprema di Cassazione però ci ha indicato una cosa particolare cioè ci ha detto bene voi avete nominato tutore il padre siccome il tutore deve fare il migliore interesse di chi tutela credo che il padre sarà senz'altro emotivamente coinvolto non è la persona più indicata nel vostro caso quindi vi suggeriamo di andare dal presidente del tribunale della vostra città a Lecco e far nominare un curatore speciale cioè è il presidente del tribunale che nomina cosa è la funzione del curatore speciale deve agire in contraddittorio al tutore e verificare tutto quello che ha fatto il tutore che ha detto il tutore attribuendo all'Eluana corrispondesse a realtà questo a noi è stato fatto però dovevamo ritornare a Lecco e dovevamo ritornare alla corte d'appello di Milano e questo è stato fatto e la terza sentenza della corte d'appello di Milano sorprendentemente evoca addirittura l'eutanasia passiva pensate voi allora a questo punto tutto quello che noi abbiamo impostato adesso basta abbiamo detto allora siamo ritornati alla corte suprema di Cassazione è chiaro con veramente con un'impostazione adeguata ben sintente e che rispettasse tutto bene finalmente dopo 15 anni e 9 mesi esattamente 5.750 giorni quello che per noi era la cosa più ovvia più naturale del mondo che ci venissero riconosciuti queste libertà e questi diritti fondamentali esce la sentenza del 16 ottobre del 2007 in questa sentenza ci sono principi di diritto in uno stato di diritto perfettamente allineati alla nostra Costituzione validi per queste persone e per di più nello specifico della vicenda eluana allora vediamo i principi generali i principi generali sono questi l'autodeterminazione sempre la sentenza che valgono per tutti l'autodeterminazione terapeutica non può incontrare un limite anche se ne consegue la morte e non ha niente a che vedere con l'eutanasia quello che aveva evocato la sentenza della Corte d'Appello e nessuno può decidere né al posto né per ma bisogna decidere con decidendo con noi quando davamo voce alle luane nel lontano gennaio del 92 era chiaro che decidevamo con l'eluana il medico perché è medico una volta superata la prima emergenza non ha questo potere che lui ha evocato e ha messo in atto sempre nella legalità e nella trasparenza nel lontano gennaio del 92 quindi il medico perché è medico non ha questo potere quindi una volta che viene inquadrata la situazione come ci aveva detto a noi deve essere ristabilito il dialogo medico-paziente c'è anche la convenzione sopranazionale di Oviedo come vi ho già detto quindi si deve ristabilire il dialogo medico-paziente nessuno medico si può sognare perché è medico di avere questo potere di creare cioè di mettere in atto tutto quello che insomma di creare queste situazioni che uno non le prenderebbe mai in considerazione poi è chiaro che deve andare nello specifico la sentenza perché voi sapete tutti era chiaro nella procedura che noi abbiamo in uno stato costituzionale quando si rivendicano libertà e diritti fondamentali si va attraverso la magistratura non c'è verso non c'è altra strada percorribile stiamo parlando dentro la società e dentro la legalità abbiamo parlato sono principi morali e etici quasi ovvi ovvi e noi abbiamo messo in atto questo perché non c'è dato alternativa e non potevamo muoverci differentemente se volevamo raggiungere il nostro obiettivo allora loro dicono nel caso di specie pongono due condizioni era chiaro si è rivolti a noi nel caso specifico però deve essere chiaro se non ci sono due presupposti chiave dice questa sentenza nello specifico della vicenda eluana i due presupposti chiave erano questi che la condizione clinica dell'eluana fosse quella ma come vi ho già detto non è mai stata messa in discussione da nessuno stiamo parlando sempre di chi la crea di chi la certifica non delle chiacchiere che si sentono e si continuano a sentire quello non ci riguardano noi ci siamo rivolti alla magistratura quindi la magistratura valuta al massimo chi l'ha creato questa sensazione che non ha mai messo in dubbio e chi ha dovuto certificare questo durante l'intera giuridico poi dovete sapere che in medicina non esiste l'assoluto come in nessun cosa quando si dice irreversibile in questo caso significa altissima probabilità di ma siccome nella situazione dell'eluana nessuno è mai tornato indietro in questa situazione sarebbe stata la prima è chiaro quindi per noi non c'erano problemi di questo e poi che i convincimenti dell'eluana parliamo di convincimenti etici filosofici culturali e anche confessionali del ragazzo fossero quelli li ho fatti presenti da subito poi erano chiari per noi queste cose ne avevamo parlato e approfondito cose e fatti presenti da subito allora è chiaro dice se ci sono questi due prosupposti allora voi rimette tutto viene rimesso a una nuova sezione della Corte d'Appello di Milano cassando cioè annullando tutto quello che era stato precedentemente detto dovevano solo verificare questi due presupposti e poi potevamo venire autorizzati autorizzati allora è passato quasi un anno quindi siamo passati dalla sentenza del 16 ottobre alla diciamo all'incontro in Corte d'Appello di Milano del 25 di giugno e poi c'è stato il decreto del 9 luglio quindi il decreto del 9 luglio del 2008 il decreto ha esaminato queste situazioni e ci autorizza cioè noi siamo autorizzati non è che potevamo anche dire di no non farlo questo allora cosa succede quando esce questo decreto prima già quando è uscita questa sentenza poi non ne parliamo quando è uscito il decreto cosa fa i due rami del Parlamento italiano dicono ma guardate una cosa la magistratura è folla con le sue sentenze creative non spetta la magistratura dà delle risposte a queste questioni eticamente sensibili spetta al Parlamento pensate voi erano stati già investiti noi da noi questo appello il 14 giugno del 2000 è chiaro avevano affrontato ma non erano arrivati nel concreto quindi la magistratura non può non rispondere alla domanda di giustizia del cittadino quello che può fare il Parlamento non avendo risposto nel concreto della vicenda e poi sollevare un conflitto di attribuzione veramente è il collo per i due rami del Parlamento ma loro sapete tutti che l'ossessione dell'allora Presidente del Consiglio e di tutti i suoi nominati era la magistratura e quindi non hanno perso tempo di sollevare questo per creare tutta quella confusione e quella disinformazione è chiaro il tutto è andato alla Corte Costituzionale che era detto inammissibile una volta arrivati a questo ci ha pensato il Presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni è chiaro che il Parlamento doveva dopo la legge di ratifica fare anche i decreti attuativi per queste situazioni non l'aveva fatto infatti il decreto noi in base al decreto avevamo fatto anche noi il decreto attuativo come affrontare dal punto di vista clinico la ripresa del processo del morire perché io ho sottolineato sempre questo ai medici specialmente guardate dentro la scientificità clinica e dentro le strutture cliniche vengono create queste situazioni è chiaro che se ne deve uscire da queste situazioni sempre dentro la scientificità clinica e dentro una struttura clinica perché in base al decreto alla sentenza e in base agli accordi sovranazionali di Oviedo era questo quindi noi avevamo bisogno in Lombardia vivevamo in Lombardia della struttura allora Formigoni ha bloccato tutto come vi ho già detto le mie radici sono a Udine e grazie al cielo questa volta tutti diciamo anche il mio credo politico che era già noto prima della vicenda di Luana questa volta i miei amici socialisti in questo caso lo posso dire del Triuli Venezia Giulia compreso il presidente della regione che io conoscevo personalmente avevo dei rapporti ottimi con tutte queste persone allora ci hanno pensato loro adesso Peppino noi ne dobbiamo uscire da questa situazione e questo presidente della regione che si chiama Renzo Tondo ha detto io non sono Formigoni per noi qui la legalità è in prima linea lo faremo abbiamo trovato la struttura e stava partendo l'ambulanza appunto per entrare in questa struttura che noi avevamo trovato con il decreto attuativo in tutta perfetta regola per il punto di vista clinico e tutto era a Bruxelles il ministro della salute di allora Sacconi Sacconi ha minacciato questa struttura e tutte le strutture dicendo l'accreditamento cioè la minaccia di queste strutture gli toglie l'accreditamento e quindi queste muoiono di per se stesse il consiglio di amministratori di questa struttura ha preso paura e quindi ci ha bloccati era già partita l'ambulanza e tutto questo era il 16 di dicembre del 2008 come si intende allora abbiamo detto qui non ci resta che di uscire da strutture ricattabili dal sistema politico dalle istituzioni quindi noi dobbiamo trovare una struttura non ricattabile l'abbiamo trovata che è questa struttura del comune di Udine che è da qui dove il sindaco il massimo anche qui il sindaco ha tranquillizzato tutti qui ci pensiamo noi ecco e lì come ben sapete si è messo prima il presidente del consiglio che voleva fare un decreto che gli ha detto poi il nostro presidente ma non c'è nessuna necessità di fare nessun decreto c'è una sentenza del massimo organo giudizionale stai buono e chiuso l'argomento perché non ti firmo niente allora lui voleva fare una legge a Doras come si dice nel giro di qualche giorno poi sapete per farla come è stata sempre nella situazione dell'Eluana questa volta ci ha pensato l'Eluana ad andarcene ma pensate voi come si può ostacolare diciamo un cittadino che si muove nella legalità e nella trasparenza dove ha una sentenza non più impugnabile quindi attraverso questa vicenda cosa si vuole quando si viene informato quello che non si può escludere di andare incontro in determinate situazioni quello che può venire sollevato quello che può venire sollevato perché una volta finito questo non è finita perché loro pensavano che nel giro di qualche settimana di fare una legge ci hanno messo tre mesi al senato e poi è stata due anni e questa legge il principio di questa legge è contro questi principi di diritto di questa sentenza pensate voi siccome in questa sentenza è chiaro che il medico non aspetta al medico l'ultima parola in queste situazioni loro danno al medico di nuovo questo potere che la sentenza dice che non lo può avere non contenti di questo se è in uno stato civile obbligano per legge che l'alimentazione e l'idratazione non può essere oggetto di disposizioni quindi il problema di fondo rimane questo di non trovarsi scoperti con delle indicazioni per quando si è in questa situazione perché la nostra famiglia ha vissuto due tragedie una di perdere la figlia che è privata ma l'altra quello che siamo andati incontro nel dar voce quindi una legge per le disposizioni anticipate di trattamento che viene semplificata dai giornalisti del testamento biologico ma in effetti è queste disposizioni dovrebbe solo essere molto lineare nel dire le disposizioni si possono dare in questa maniera e hanno valore poi verranno rispettate anche in questa maniera e basta ma non mettere dei paletti non costituzionali perché è palesemente incostituzionale quindi non è oggetto neanche di discutere quindi questa vicenda vi fa capire quello che non potete andare quello che non potete escludere di andare incontro a questa situazione e veramente dove si possono spingere loro in queste cose grazie 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 grazie